Una lobbista deve prevedere. Deve anticipare le mosse del suo avversario e trovare le contromisure. Chi vince trama un passo avanti ai suoi nemici e svela gli assi nella manica, dopo che gli altri hanno svelato i loro. Deve essere certa che li sorprenderà e che non si farà mai sorprendere.